Un altro degli aspetti secondo me molto importanti di far parte di Roof Pro è la possibilità di fornire al cliente un fascicolo tecnico redatto da dei professionisti che spiegano anche nel dettaglio tutto quello che è la funzionalità dei vari elementi della copertura. Ho notato nella mia esperienza che i clienti apprezzano molto il fatto di trovarsi in mano un fascicolo tecnico redatto in ogni dettaglio per ogni aspetto della copertura. Fa molto effetto e soprattutto ha la possibilità al cliente di vedere quello per cui spendono i soldi. Il solito preventivo fatto un po' in maniera artigianale ha lasciato un po' il tempo che trova. Da quando posso proporre questi fascicoli della BMI Expert diciamo che il clientela lo apprezza molto di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.